Macro categoria imprese, categoria innovazione and leadership. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione and leadership, accessori e ricambi per imbarcazioni di lusso. La motivazione per aver festeggiato il centesimo anno dalla nascita, ragguardevole traguardo di una storia di successo nata dalla tradizione navale ligure e arrivata a conquistare il mercato nazionale e mondiale grazie all'affidabilità e all'eleganza degli accessori prodotti per imbarcazioni di lusso capaci di creare un mix di funzionalità, sicurezza e design. Il premio va a Fratelli Razzetto e Casareto. Ed è collegato con me Gianji Razzetto, Innovation and Design Lab Director di Fratelli Razzetto e Casareto che saluto, complimenti per questo riconoscimento Gianji. Grazie, grazie mille. Che cosa significa per te e per voi soprattutto in questo momento particolare? Ma ricevere un premio in questo momento è sicuramente una bella cosa, compiamo cent'anni e non possiamo fare la festa che avremmo voluto per cui un regalo è sempre gradito. Assolutamente, è un modo di festeggiare diverso, alternativo, l'importante è concentrarsi sulle questioni importanti e soprattutto sottolineare che cento anni di storia sono fondamentali. Ecco, mi piacerebbe conoscere un po' di più di voi e proprio perché parliamo di cento anni, che cosa significa, che cosa si prova arrivare a questo traguardo importantissimo? Per noi è sicuramente un compleanno, lo viviamo come un compleanno perché siamo alla terza generazione delle stesse famiglie che hanno continuato a lavorare passandosi il testimone per cento anni, quindi lo viviamo come una festa di famiglia per tutti quanti. E grazie a questo passaggio di testimone di cui tu parli avete mantenuto intatta la tradizione, questo è chiaro, perché parliamo di una tradizione familiare, però come abbiamo letto nella motivazione, intanto avete conquistato il mercato nazionale e mondiale attraverso proprio l'affidabilità, attraverso la sicurezza, attraverso la ricercatezza anche dei particolari e l'eleganza, la bellezza, insomma tutti elementi che si mischiano insieme. Sì, noi, allora, preciso che il core business dell'azienda sono le serrature, già i nonni avevano brevettato un sistema antivibrante che è ancora caratteristica principale delle nostre serrature. Intorno alle serrature abbiamo creato un sacco di altri oggetti che hanno saputo andare al passo coi tempi e in alcuni casi anche anticiparli, quindi abbiamo saputo mettere insieme tante volte tecnologia, arte e tradizioni. Allora, la domanda sorge spontanea, visto che parliamo sempre anche di futuro e visto che dobbiamo intanto festeggiare anche qui insieme questi cento anni, ti chiedo come vedi i prossimi cento anni? I prossimi cento anni li vedo sicuramente bene perché la nostra azienda è stata in grado di affrontare tante crisi, anche la guerra e abbiamo saputo tramandare i valori fondamentali per continuare a procedere negli anni e così ancora stiamo facendo. Speriamo di essere in grado di tramandare anche ai figli questi stessi valori e la voglia c'è e di sicuro stiamo mettendo anche le basi per un futuro all'avanguardia. Quando c'è la passione è poi bello anche quello che hai detto della resilienza rispetto a eventi esterni che non possiamo controllare ma possiamo cercare di dominare attraverso proprio la competenza e quello che dicevamo, la tradizione e anche l'unità perché poi è anche una storia immagino che racconta l'unione che avete e che c'è tra di voi, la sinergia ancora di più. Quello sicuramente, direi anche che tante volte le crisi sono uno stimolo per sviluppare progetti nuovi, idee nuove e cercare un po' di rinnovarsi. Ottimo, sì. Noi proprio durante questa crisi, durante il lockdown abbiamo messo a punto un progetto nuovo di cui siamo molto orgogliosi e che stiamo lanciando in questo momento. Ce ne vuoi parlare o ne parleremo in futuro? Ma la stiamo lanciando, comunque abbiamo trovato il modo per rendere le nostre maniglie completamente antivirali, quindi non possono essere attaccate dai batteri, dai germi, dai funghi ma anche dai virus. Proprio durante il lockdown abbiamo fatto in collaborazione con l'Università di Modena e Reggio il test in laboratorio, virologia, che hanno certificato che questo materiale che si chiama ESI è completamente inattaccabile, addirittura sanifica a distanza gli altri oggetti e addirittura anche la mano nel momento in cui si avvicina a terapia della porta. Beh, direi che questo è un ottimo modo per guardare al futuro e per iniziare il nuovo anno, mi sembra un'ottima notizia. Sì, assolutamente, noi finiamo quest'anno comunque contenti di essere riusciti anche a superare l'anno, ma anche con dei progetti nuovi che hanno proprio saputo sfruttare l'emergenza, il momento di emergenza. Per cui il 2021 noi ci aspettiamo che sia assolutamente un anno fantastico e speriamo che anche gli altri 100 a venire siano altri. E certo, allora, quindi, tante cose per cui rinnovarvi i complimenti, intanto per questo riconoscimento, intanto per i 100 anni e anche per questa nuova idea che state mettendo a punto e che ci porterà direttamente all'immediato futuro. Quindi, insomma, davvero a tutto il vostro gruppo, complimenti ancora. Grazie a Giangelo Razzetto. Grazie mille, grazie. Grazie.